Il passaggio generazionale è un fatto, non è un problema. Nel senso, può diventare un problema ma esiste, esiste nella storia dell'impresa. E quindi è una fase, un momento a cui ci si deve preparare. Il segreto è di prepararsi con un larghissimo anticipo. Il segreto è chi è stato investito, si investe nella responsabilità di un'impresa in quel momento, che probabilmente è all'inizio, che probabilmente è giovane, probabilmente ha tanti anni davanti, si deve domandare che cosa succederà dopo di me. Diventa un problema quando non è pianificato, quando risponde a degli umori, a degli istinti, quando le scelte non sono oggettive, quando è più forte, per esempio, il bisogno di restare in certe posizioni, e parlo di quelli che difficilmente lasciano la responsabilità, ed è quindi la capacità di lasciare al momento giusto e di avere già pronte le scelte che sono scelte da fare all'interno della famiglia per forza, perché nella famiglia ci sono gli azionisti. Ma non è detto che la responsabilità dell'azienda in termini di gestione, di capacità di portarla avanti, di farla crescere, di gestire delle complessità, debba per forza essere lasciata a uno della famiglia. Nessuno l'ha detto. Questi sono gli aspetti che vanno pianificati, vanno organizzati con dei principi e dei criteri. Questi sono i due temi, che non sono dappertutto, ma con cui ci si confronta. Questo fatto dei giovani, che lo troviamo, se vogliamo, anche in aziende in generale, nelle professioni, naturalmente è molto sentito anche nelle imprese, perché questo fatto di non sono ancora pronti, aspettiamo, aiutiamone ancora un po', ci sono io che gli do, gli do uno aiuto, no? È un trascinare che è comprensibilissimo, naturale, ma non fa bene. Bisogna a un certo punto essere capaci, perché si è pianificato prima, di dire ok, tanti auguri, io ci sono sempre, sono la memoria, sono la tradizione, ma adesso è il tuo momento. Nel momento in cui si deve, si ha un'azienda, che faccio l'esempio più bello, che cresce, che ha una complessità importante, che diventi internazionale, tanti dipendenti, eccetera, siamo sicuri che mio figlio, mia figlia, abbia l'aspirazione, le capacità, l'ambizione, proprio si senta self-confident di fare questo. Punto di domanda, se sì siamo fortunati, se no non è un peccato, voglio dire, proviamo a vedere chi sul mercato mi può dare una mano. Ed è difficilissimo, lo so, scegliere un manager esterno, gli dai una parte di te, no? È un fatto difficile la scelta, difficile perché poi c'è sotto un rapporto di fiducia che si deve creare. Però ci sono tanti esempi oggi, devo dire che negli ultimi vent'anni è stato fatto un bellissimo passo avanti da parte delle imprese e infamiliari nel scegliere il processo di managerializzazione. Ed è un fatto importante da tenere presente come prezioso, un'opzione da tenere presente assolutamente. e non c'è giusto e sbagliato, assolutamente. I figli, anzi, saranno arricchiti dal fatto di essere, non avere la responsabilità pesante di una gestione, ma di poter seguire come azionista, come dare degli indirizzi, pensare alla strategia, pensare alla diversificazione, pensare alla filantropia.